E' ufficiale, Rey Mysterio è il primo indotto nella Hall of Fame 2023 della WWE. Questo significa che entrerà nella Sala della Gloria Eterna a ridosso di Vrestalmania. Una notizia condivisa nell'ultima puntata di SmackDown che Rey non è riuscito a godersi appieno perché è stato immediatamente interrotto da quelli del Judgment Day, che lo hanno messo all'angolo e sembravano parecchio minacciosi. Ma per fortuna del maestro della 619 c'erano quelli del legado del fantasma nei paraggi che si sono schierati a sua difesa. E non solo, hanno sfidato il Judgment Day ad un match 3 contro 3. La battaglia è stata intensa e spettacolare, ma alla fine a prevalere è stato il gruppo capitanato da Finn Balor. Alla fine Dominic ha chiesto un momento da solo nel ring col padre e gli ha detto Non esiste che ti diano un premio così importante. Non lo meriti. Così come io non merito un genitore come te. Sarebbe stato molto meglio se io fossi stato il figlio di Eddie Guerrero. Ricordando così una vecchia storyline nella quale Eddie e Rey si contendevano la paternità di Dominic. Quest'ultimo ancora una volta ha messo le mani addosso al papà. Ha iniziato a spingerlo. Ma Rey Mysterio non ha abboccato. Non ha risposto. Anche oggi è riuscito a controllarsi. Allora Dominic è partito per stenderlo con un braccio teso. Ma Rey, con riflessi felini, si è abbassato e lo ha fatto cadere goffamente fuori dal ring. E per questa volta la situazione si è interrotta lì. Con Rey nel quadrato consolato da quelli del legato del fantasma e Dominic trattenuto fuori dal campo di battaglia dei suoi alleati del Judgement Day. Con Dominic a urlare prima o poi dovrai combattere contro di me e Rey Mysterio a scuotere il capo e a rispondergli no, non accadrà mai. Anche se, detto tra noi, un match imminente tra i due a me sembra inevitabile e Vrest Elmenia potrebbe essere il palcoscenico ideale per indirlo.